mister torna il derby a farini inutile nasconderlo non è una partita come tutte le altre no assolutamente no una partita tutte le altre però ovviamente in baglio ci sono tante cose uno scontro diretto una partita è la partita non è una partita per cui dovremmo prepararla bene come abbiamo fatto tutto sommato l'abbiamo fatto anche nella finale coppia come arriva la squadra a questa sfida arriva bene abbiamo avuto la buona settimana ci siamo allenati bene c'è tutto abbiamo fatto tutto nel modo giusto per arrivare a questa partita al cento per cento da un punto di vista mentale diciamo sempre queste partite si preparano da sole quindi c'è stato poco lavoro da quel punto di vista immagino sì sì ma infatti anzi bisogna un pochettino anche strammatizzare cercare di rilassare un pochettino ambiente perché il troppo magari è come il mancante giusto equilibrio giusta concentrazione per fare per dare tutto quello che i ragazzi hanno